Fu necessità salire su monti a trovare la libertà, è quasi un anno che combattiamo, muri, scalzi, senza pane, senza tetto, senza giacenti, sotto i raggi cocenti del sole o fra gel di un verno, entro in ospitali boschi, sovra stelle di lambe, traversando fiumi senza ponti, traversando coraglie senza scala, affrontando i nervi, gli armati, conquistando con le braccia le carabine e i cannoni e strappando, pur subpiano i campi di terra di lavoro, la dittoria a superbiunici. Domenico fuoco, chissà quando non siamo allo giudicino, sparca pietre, ci siamo pietre in fila, è usciuto combattendo con i muri, perché soprattutto lo stupedaggio che scrive sta gente, perché tutti chiamano che scrivono in giro a noi, è vero e niente, è vero e proprio niente. Poi secondo te che mi amanteva a combattere i muri, i muri ci sono combattere poco, da 10 anni, e chi se sono i muri veramente cantiti, chi se è il 10 cincerega, da ogni lunga, dice che da giove li combatterò i muri, ma pensa che non voglio proprio tutto sta gente che è taggata, se arriva a capire che è taggata sta gente. Io sono militare, sono andato all'esercito, appena sono andato all'esercito, l'unica è entrare all'esercito, alla fine è una persona tranquilla, perché non lo facevano con la guerra e non so ci contare. erano i miei lavori, la parola era buona, teneva una bella divisa, guardava i paesi, tutto quanto lo rispettava, e voleva una vita tranquilla, che era una vita oltre, mi piaceva. Poi è successo, si è scappato la vita, la trosca si è coltata, e mi fanno fatti cascata qui, e niente, a te vengono, mi hanno mandato in paio San Pietro a trovare lontano, se ne ho trovato lontano, perché? Non c'è scherzo, si era deciso, alla fine si tornava la terra, si sorride, all'esercito, a San Pietro, Ma oramai, dove si era scappato tutto? Un pannato, eh? I quelli che combattevano con l'albertato, dicevano loro. I quelli che erano fatti sempre quello che gli farevano, che erano i signori, che erano i quelli che tenevano i quadrini, stavano a combattere perché volevano essere liberi, loro che c'erano sempre stati. Poi io lo sacco che l'albertato voleva. L'albertato è fregato la terra alla povera gente. E alla fine, se scausa il cane che è arrivato, ce l'hanno mandato pure un po'. Adesso, mochendo la terra, so signora, i camminano in quel paese vinti fin, finchè non arrivi dalla panna, perché basta tenere scoppettata la campana, e si sparisce tutto qua. Pumagli sono 5.100 miliardi. Adesso, prontano, lo facciamo scappamento. Ma d'arriva dai paesi, tipo a mattina presto alla grancia, la donna alla grancia. Eppure oltre, siamo fatti c'era la cosa, siamo venuti, ma ci vedevano a dovevano. Siamo venuti a paura. Il po', poi si è venuta da scappamento. Il po', il mycino, il tempo è venuta dall'escappamento. Se ho stava prima della grancia, poi stava le sal sehen, poi stava le salure, poi stava la pelle spettanhe, poi stava la serra canta, io alla fine mi sono scucciato che mi sono fatto papà 250 persone siamo fatti calma al prossimo passato per 10 anni è stata la guerra la guerra non è bella la guerra quando è successo al fine non l'ha fatta mai a me la guerra ma siamo andati a mio frate per la poca e infatti qua c'è morito fa una mamma e siamo andati a tutti gli uomini che penevano che penevano a 250 ma ne vengono a 4 e hanno passato a 10 anni di solta c'è scurito di essi stanno andando scappendo chi li che si è mai aiutato sempre ho fatto di tutto va bene perché ci vanno che stanno nella taglia erogna una pasta che ci fanno spiare e tre carini sempre sono venuti a sapere perché se vengono a sapere dov'è andare a lavorare non è mai arrivata la macchina perché non è la macchina da dire io l'accento pure l'accento che grazie a me si è già arricchita un'altra volta l'accento di tanto l'accento sono nominato di un valore c'era fornito c'era fornito c'era fornito 80 anni ma si è fatta pagare si è fatta pagare a fuori il mondo ha fatto qualcosa che non è che non piace da me ci ha convinto a fare un rapimento ma era sempre gente che stava maricata ma era una questione contenta era gente che combatteva l'unità di un che non battava l'unità ma gli stavano gli stavano gli stavano eppure organizzati tutti c'è l'Italia c'è il 24 c'è il 24 c'è l'Italia lì la toglie spazia e lì sono trattati lì le cattano non c'è la selezione poi è una prima con l'altra lì la nazionale gli stavano poi i loro non so sapere perché hanno e la ora la lì c'è allora Allora l'occhio sono lasciato un messaggio, io sono andato avanti, e come ero le quattro, chissà meno tre, ancora si sono spesso, io sono andato a guardare, guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guard Non si è pregata, io non sopporti. Ma a te te pare che non sopporti, perché tu mi vedi, tu mi vedi a tutta la parte, ma se Cristo va da sera sotto i supporti, che pareva proprio a io, ma non poteva essere, io non sopporti, mi sono sceso tutto. Io mi vedo quando la feccia nella finestra, mi dà il vetro nella finestra, io sto fuori, ma non può essere sì, mi sono morto, mi sono sceso tutto. Io mi vedi che mi piaccia, qua non stai a mangiare, non stai a mangiare più, tu sei il dono che è lì. Tu mi vedi da me a tutta la parte, ma non può essere, io non sono morto, mi sono sceso tutto. Non lo sopporti. In me, che tutte queste soldi che ti sei fatte, grazie a me, che ti sono dati, i chili che ti hanno dato a te, facciti da me, ti sei comprato una frega di roba. No? Si è padrone di tutta questa terra, il pancino. Solo che oggi ci hanno avuto da lottare, qua c'è un braccio. Perché tu si è andata un vent'altro cadente, che non ce la fa più, ma anche a camminare. Se è arrivato il pancino, gli stai guardando la roba terra, adesso, fino a dove, per tutta roba terra, ma riporta, ti arriva un'altra. Tu lo sei, se tu gli stai guardando ogni intanto, aggrediscono la gente. e chi sa, fare proprio che ci vada a te. Se avvicina, io è rossa, l'aggola rossa, se chi non la si è vista mai, e come te si appolange a cuogli, tu la guardi, e per la faccia mia. Con parole, frega. Grazie. 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 Grazie.